Ciao a tutti ragazzi da Corzio199, il trio d'assistenti Carletto ormai ospite fisso per l'apertura, infatti l'apertura si tratta perché abbiamo confini barcati ragazzi, ho già aperto qua l'involcro, questa qua è la copertina, parla di, vabbè, chiura un bianco ex, l'ama di cristallo, ovvero le assitattici le ex, e confini barcati finalmente in italiano, è uscito penso dell'8 al 10, 8-9-10 di questo mese, ne dico la ma sto concludendo negli scambi, facendo scambi, quindi l'ho avuto il tempo. Una sola così, abbiamo potuto anche vedere il carticino lì, insomma non ci sarebbe stato il tempo, avevo già aperto due bustine in inglese che non avevo, ancora un mese fa, che non avevo montato su youtube perché il video si era interrotto a metà, vabbè, e avevo preso durante un torneo in inglese, quindi queste sono le mie prime bustine ufficiare in italiano, quindi perché le altre bustine se no sarebbe stata questa qua in promo, vabbè, non ho la conto, non c'è la lada. Cosa bella è che qui, come succedeva per le prime nelle HS, posto dell'RVS si può trovare la prime nelle quelle A, ma qua si può trovare gli assitattici. Molto bello avere le bustine pieni in mano. Sì, quindi si era un'emozione in più per trovare una carta rarissima, quindi abbiamo due possibilità in una bustina. Bene, io ho preso l'Andorus perché è la carta che spero di trovare, una bustina difficile, anche là è il mio artico preferito. L'unico, secondo me, è dei tre geni, diciamo, leggendari, che è stato migliorato con le R2, mi piace di più così, però questa testa a martello con il genio non ci stava bene. Mentre è tornato, ho stato un duro, mi piace di più con gli artwork vetti. Bene, Carletto, gli ho fatto una promessa, se mi fa trovare almeno una rara reverse, mi va bene anche se fosse un Lilligant reverse con un Lilligant raro, non mi importa. L'importante è che sia almeno una rara reverse, o di più ovviamente, quindi una holo, una ice pack, ex, eccetera, ma se mi fa trovare solo una rara, quindi senza niente, con una reverse, una comune o non comune, per dire ciao ciao, Carletto, se ne va, mi dispiace di essere così severo, faccio così. Mi hanno detto che sono fatti di pasta frollo, di burro, ed è così, sembrano vecchissime, sono incollate malissimo, però io devo riuscirci. Io sono leggendo. Un bel focus sulle mie bellissime unghie. No! Non d'Orus, perché? Perché? Vabbè, la prossima volta la taglio con la forbicina. C'eramente non lo faccio, perché anche il bello di avere una bustina è proprio quella di aprirla, cioè, è una soddisfazione. Cliccolci, io ci gioco online, quindi non lo do. Bene, io generalmente non guardo il colore delle carte all'inizio, faccio finita di niente, ma sento se c'è qualcosa. Uno, due, tre. Niente. Niente. Carletto. Preparati a passare dei guai, dei guai molto grossi. Proteggeremo il mondo delle bustazioni. Basta. Patrat. Queste sono tutte carte nuove, o quasi, per me. Quindi, Patrat, mi piace molto l'artwork, anche se sono in tre. È una cosa un po' strana. Meryl. Serve giusto un po' come pozione. Comune. Frillish. Pikachu, doppio Pikachu. Triple con quello che mi ha dato un utente in inglese. Tornados. Bitorso, l'elmo. Bello. Ci siamo già le non comuni? Wow, me lo sono proprio caduta sto bustino. Munna. Non comune. Però c'è un'abilità, adesso non lo leggo, però. Tranquil. Poi, dacca la terravera, se stai rischiando tantissimo, Carletto è. Musciarla, raro. Quindi è ufficiale. Carletto se ne va da questo programma. Mi dispiace, Carletto, ma sei ripartito con così tanto culo, poi, sempre più basso, fino ad arrivare a una rara soltanto. Ciao. Bene, scusatemi, ma sono arrabbiata. Vabbè, allora le... Scusate, faccio il focus. Ok. Comuni, vabbè. Poi, le non comuni, vabbè. Mi ho trovato una musciarna. Bellissimo, dacca, per carità. Musciarna, semplice, semplice. Mi hanno dimenticato anche di dire che le bustine in inglese, le due che ho preso, ho trovato anche la merda. Due rare comuni. Dette, cosiddette. Sono rare, ma sono comunque... Vabbè, per questo video direi proprio che è tutto. Mi dispiace per non essere... Verre solo una bustina e aver trovato poco. Ma io vi invito a mettere mi piace lo stesso. E commentare e iscrivervi. Ciao.